Come è andato il vostro Ferragosto? Benissimo, siamo stati in un hotel, Hotel Ferdinando, abbiamo festeggiato con i fuochi d'artificio, musica, balli, pranzo, bellissimo, cena, tutto. Siamo stati benissimo. Dove siete stati? Qui, abbiamo alloggiato un albergo qua dietro. Come avete festeggiato? Niente, tranquillità, sole, mare e un po' di cibo che non manca mai. Abbiamo festeggiato un ristorante da Pirozzi, si mangia molto bene, a Ischia Ponte. Al ristorante, alla festa, a mangiare, bene. Bellissimo, bel Ferragosto. Dove siete stati? Giù all'Aurum Hotel. Siete divertiti, avete visto meno gente? Tantissime, no, no, tantissime, tantissima gente, più dell'anno scorso. Si stava molto meglio degli altri anni, molto meglio. Molto caos. Che cosa avete visto, diciamo, per le strade? Tanta gente. C'è molta affluenza, vabbè, sono giorni particolari, c'è molta affluenza. Caos? Molto, molto, però molto abbastanza, sì. Molto meno, molto meno caos. C'è stato anche un half after? No, noi no, però qua in spiaggia sì. Ci sono un sacco di ragazzi bellissime.